I finanziari di Verona, a conclusione di una complessa indagine, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per quasi 3 milioni di euro. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di cinque società operanti tra il Veneto e la Lombardia. L'attività investigativa ha avuto inizio dopo il sequestro, avvenuto nel 2020, in piena pandemia da Covid-19, di un ingente quantitativo di mascherine di protezione, commercializzate illecitamente, che venivano vendute applicando una percentuale di rincaro tra il 200 e il 400% del costo di acquisto. Le indagini hanno permesso di delineare i contorni di un complesso sistema di evasione fiscale posto in essere da alcuni imprenditori operanti nel settore del commercio di metalli ferrosi che utilizzavano fatture per operazioni inesistenti per giustificare i costi fittizi per un importo complessivo di circa 7 milioni di euro.